Ciao a tutti, eccoci al secondo appuntamento di NoEdit, il format dove vi leggo un racconto, la parte di un libro, così a impronta, senza interruzioni, senza tagli e senza essermelo preparato prima. C'è una novità oggi, sono sceso al piano di giù dove ho il caminetto e sono davanti al fuoco. Voi non potete vederlo ma c'è anche il mio cagnolino Dobby accucciato su di me e spero che non causi problemi con i fili. Ecco, a proposito di questo che ho appena detto, e cioè che ho cambiato location e che c'è un cane sopra di me, fino all'ultimo ero indeciso se portare questo format puramente audio, come sto facendo adesso, oppure se è in forma di video. Fatemi sapere, se vi va nei commenti, che formula avreste preferito, o se preferite questa. Adesso sorseggio un po' di caffè. E mi lancio nella seconda e ultima parte del racconto di Stephen King, Parto in casa, tratto dall'antologia Il libro dei morti viventi. La prima notizia era arrivata da un paesino della Florida lungo l'antica pista Tamiami. Il nome del villaggio non era così colorito come boccale umido, ma era ugualmente azzeccato. Tamper, grande panzana. Tamper, in Florida. Era stato segnalato da uno di quei fogli scandalistici che riempiono le scansie, o le scansie, accanto alle corsie delle casse nei supermercati e negli empori. I morti tornano in vita in un villaggio della Florida. Aveva annunciato il titolo sulla prima pagina dell'Inside View e la spalla aveva aggiunto, film dell'orrore diventa realtà. Il titolo di spalla si riferiva a una pellicola intitolata La notte dei morti viventi, che Maddie non aveva mai visto. L'articolo menzionava anche un altro film che lei non aveva mai visto. Il titolo di questa seconda pellicola era Macumba, l'isola dei vampiri. L'articolo era accompagnato da tre foto. La prima era un'inquadratura della notte dei morti viventi e mostrava quello che sembrava un gruppo di evasi da un manicomio davanti a una fattoria isolata in piena notte. La seconda era un'inquadratura di Macumba e mostrava una donna con una quantità incredibile di capelli biondi e il minuscolo top di un bikini che tratteneva a stento due seni, dalle dimensioni di zucche da primo premio. La donna aveva le mani sollevate e sembrava urlare dinanzi a un negro che portava una maschera. La terza veniva spacciata come una foto scattata a Tamper, Florida. Era l'istantanea sfocata e granulosa di un essere umano, di cui era impossibile definire il sesso che camminava in mezzo alla strada principale di un paese. La figura veniva descritta come avvolta nel sudario tombale, ma poteva essere chiunque infagottato in un lenzuolo sporco. Non era granché. La settimana prima era stato Bigfoot stupra alle piccole esploratrici. Questa settimana erano i morti che tornavano in vita e la prossima settimana sarebbe toccata al nano assassino di massa. Non fu granché fino al giorno in cui cominciarono a spuntare un po' dappertutto. Non fu granché fino al giorno in cui il primo notiziario televisivo «Forse vorrete far uscire dalla stanza i vostri figli più piccoli», annunciò cupamente Dan Rater, mostrò creature con le ossa che si intravedevano attraverso la pelle rinsecchita, vittime di incidenti stradali. Il sapiente lavoro dei truccatori delle pompe funebri cancellato dall'oscura passività del terreno o dalla frenetica risalita dalla superficie, mostrando così i visi maciullati e i crani sfondati, donne dai capelli trasformati in alveari sporchi di terriccio dove ancora si muovevano vermi e insetti e sempre visi che oscillavano fra un'espressione vacua e una specie di orribile intelligenza calcolatrice. Non fu granché fino alle prime spaventose fotografie in un numero della rivista People, che fu posto in vendita sigillato in una busta di plastica, come le riviste porno, un numero sul quale spiccava un grosso adesivo arancione con la scritta «Vietata la vendita ai minori». Allora sì, la faccenda si fece grave. Quando si vedeva un uomo in via di putrefazione che, con ancora addosso i resti infangati dell'abito Brooks Brothers, nel quale era stato sepolto, dilaniava il seno di una donna urlante, con una t-shirt e con la scritta «Proprietà dei Petrolieri di Houston», ci si rendeva improvvisamente conto che poteva essere una faccenda davvero grave. Poi erano iniziate le accuse e le minacce reciproche e per tre settimane il mondo intero era stato distratto dalle creature che fuggivano dalle loro tombe, come grottesche falene dai bozzoli malati, grazie allo spettacolo delle due maggiori superpotenze nucleari apparentemente inviate lungo una rotta di collisione. Negli Stati Uniti non c'erano zombie, dichiarò la TASS. Quei pochi che venivano mostrati erano finti e servivano a mascherare un imperdonabile atto di aggressione chimica contro l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Sarebbero seguite rappresaglie se i compagni morti che uscivano dalle tombe non fossero tornati alla loro precedente doverosa immobilità nel giro di dieci giorni. Tutto il personale diplomatico americano venne espulso dalla Russia e da buona parte dei paesi satelliti. Il presidente, che di lì a poco sarebbe diventato lui stesso un piatto del giorno per gli zombie, rispose l'accusa tirando sdegnosamente indietro la pancia. Era ingrassato di almeno 25 chili dopo la sua rielezione e rigirando la frittata. Il governo degli Stati Uniti disse al popolo americano possedeva prove inoppugnabili del fatto che i soli morti viventi a zonzo dell'Unione Sovietica erano stati messi in circolazione deliberatamente e mentre il premier sovietico poteva avere la faccia tosta di sostenere che in Russia circolavano più di 8.000 cadaveri ambulanti alla ricerca del collettivismo finale, noi avevamo le prove che in realtà erano meno di 40. Erano stati in Russia a perpetrare un atto, un orribile atto, un orribile atto di guerra chimica, riportando in vita onesti cittadini americani, il cui solo impulso consumistico era quello di consumare altri onesti cittadini americani. E se questi americani, alcuni dei quali erano stati fedeli sostenitori del Partito Democratico, non fossero ritornati disponibili al rientro nelle loro tombe entro cinque giorni, l'Unione Sovietica sarebbe diventata un cumulo di macerie fumanti. Il presidente espulse tutti i diplomatici sovietici, con una sola eccezione, un giovanotto che gli stava insegnando a giocare a scacchi e che non era del tutto contrario a una palpata occasionale sotto il tavolo. Il NORAD era a livello di allarme DEFCON 2 quando fu individuato il satellite, o l'astronave, o la creatura, o quel che diavolo era. Il primo ad avvistarlo fu un astronomo dilettante di Inckley-on-Straub nell'Inghilterra occidentale e questo individuo con il setto nasale deviato, i piedi piatti e l'orchite, stava anche perdendo i capelli e le calvizie galoppanti evidenziavano il suo caso veramente orribile di psoriasi, salvò probabilmente il mondo dall'olocausto nucleare. Le postazioni sepolte dei missili erano già spalancate in tutto il mondo, mentre i telescopi in California e in Siberia venivano puntati sulla stella amara. Furono richiuse solo dopo l'orribile fine della Salyut Aquila I. La missione spaziale che partì con un equipaggio di sei russi, tre americani e un inglese. Appena tre giorni dopo la scoperta della stella amara da parte di Humphrey Dagbolt, l'astronomo dilettante con il setto deviato e tutto il resto. Il membro inglese dell'equipaggio naturalmente era lui. La sua scoperta gli costò cara, costò cara a tutti. Gli ultimi 61 secondi di trasmissione ricevuti dalla navicella Gorbachev-Truman furono giudicati troppo orribili per essere resi pubblici dai tre governi coinvolti e così non vi furono dichiarazioni ufficiali. Ma questo non ebbe alcuna importanza. Quasi 20.000 radiomatori si tenevano sintonizzati sulla frequenza della navicella e almeno 19.000 avevano in funzione un registratore quando la navicella era stata... beh, c'era qualche altra parola per dirlo? Invasa. La voce russa diceva Vermi, sembra una gigantesca palla di... La voce americana... Cristo, guardate, si avvicina! Dagbolt diceva... Si sta verificando una specie di estrusione. Il finestrino di Babordo... Una falla! Perdiamo aria, le tute... Segue un borbottio indecifrabile... Sembra che stia divorando una via di accesso! Olga Catinia... Oh, basta! Fermate gli occhi! Suono di un'esplosione... Dagbolt... Si è verificata una decompressione esplosiva! Vedo tre... No, quattro morti e... Ci sono vermi! Ci sono vermi dappertutto! Chiudete il casco! Il casco! Il casco! Urla. Dov'è la mia mamma? Dove? Altre urla. Suoni come di un vecchio sdentato che risucchi una purea di mele. La cabina è piena di vermi, di creature che sembrano vermi almeno. Il che significa che sono davvero vermi. Insomma, si sono staccati con un'estrusione dal satellite principale. Quello che sembra un satellite almeno. Il che significa che... Insomma, la cabina è piena di pezzi umani che galleggiano. A quanto pare questi vermi spaziali secernano una specie di ACI. A questo punto vengono accesi i razzi principali. Durata dell'accensione 7 secondi virgola 2. Può essere stato un tentativo di fuga o forse di speronamento dell'oggetto centrale. Quale che fosse il motivo, la manovra non ha funzionato. Appare probabile che gli stessi ogelli dei razzi fossero ingolfati di vermi e che il capitano Vassili Tusk, o qualsiasi altro ufficiale fosse allora il comando, abbia ritenuto imminente un'esplosione dei serbatoi di carburante a causa dell'occlusione. Ecco il perché dello spegnimento. Oh Cristo Sanzo! Lì ho dentro la testa! Mi stanno divorando il fortuto cerve... Disturbi. Mi sto ritirando nel compartimento di poppa. Al momento sembra la mossa più prudente fra quelle poche che ancora mi rimangono. Credo che gli altri siano tutti morti. Peccato. Una squadra in gamba. Anche quel ciccione russo che continuava a scaccolarsi. Ma da un altro punto di vista non credo... Disturbi. Morti affatto perché la donna russa, o almeno la testa vozzata della donna russa, insomma, mi è appena passata accanto e aveva gli occhi aperti. Mi stava fissando da dentro il suo... Disturbi. Restate un'esplosione. Altri disturbi. Com'è possibile che un pene mozzato abbia un orgasmo? Io credo... Disturbi. Intorno a me. Ripeto. Le ho tutte intorno a me. Cose striscianti. Sono... Ehi! Qualcuno sa se... Dagbolt urla e impreca. Poi urla soltanto. Di nuovo il suono di vecchio sdentato. La trasmissione termina qui. Tre secondi dopo la Gorbachev-Truman esplose. L'estrusione dalla sfera irregolare soprannominata Stella Amara era stata osservata sulla Terra da più di 300 telescopi durante il breve e alquanto sfortunato conflitto. Mentre iniziavano gli ultimi 61 secondi di trasmissione, la navicella aveva cominciato a essere oscurata da una massa che sembrava veramente composta di vermi. Al termine della trasmissione, la navicella era ormai indistinguibile, ricoperta da una massa strisciante di cose che si erano attaccate al suo scafo. Alcuni istanti dopo l'esplosione finale, un satellite meteorologico scattò una singola fotografia di reletti alla deriva, alcuni dei quali erano di certo frammenti delle creature vermiformi. Una gamba umana rivestita di frammenti di una tuta spaziale sovietica, galleggiante in mezzo ai reliti, fu molto più facile da identificare. E in un certo senso nemmeno tutto questo aveva la benché minima importanza. Gli scienziati e i capi politici di entrambe le superpotenze sapevano esattamente dove si trovava la Stella Amara, sopra il buco in espansione nella fascia di ozono terrestre. Dallassù stava inviando qualcosa sul pianeta e non erano messaggi di auguri. Dopodiché partirono i missili. La Stella Amara li schivò facilmente e poi fece ritorno sopra il buco. Altri morti si rialzarono e ripresero a camminare. Adesso cercavano tutti di mordere. L'ultimo sforzo per distruggere la Stella Amara fu compiuto dagli Stati Uniti. Al costo di poco meno di 600 milioni di dollari e nell'ambito del progetto Guerre Stellari, l'amministrazione precedente aveva lanciato in orbita quattro satelliti dotati di armi difensive. Il presidente dell'attuale e nonché ultima amministrazione informò il premier sovietico della propria intenzione di usare quei missili e ottenne la sua entusiastica approvazione. Il premier russo si era ovviamente scordato che sette anni prima aveva definito quei missili malefici ordigni di guerra e odio forgiati nelle fucine dell'inferno. Forse avrebbe funzionato se almeno un missile fosse riuscito a partire dalle piattaforme orbitali. Ogni satellite era dotato di sei testate da due megatoni. Ogni stramaledetto missile si rifiutò di funzionare. Niente male come epitafio per la tecnologia moderna. Maddy non riteneva che l'orribile morte di quegli uomini coraggiosi e di una donna nello spazio fosse stato l'ultimo shock. C'era stata anche la faccenda del loro piccolo cimitero lì a Jenny Island ma questo non sembrava contare molto perché dopo tutto lei non aveva assistito. Con la fine del mondo ormai a portata di mano e l'isola tagliata fuori, fortunatamente tagliata fuori secondo l'opinione degli abitanti dell'isola, da ogni contatto con il resto del paese, le vecchie abitudini di vita erano tornate a farsi vive con forza silenziosa ma indiscutibile. Ormai tutti sapevano che cosa sarebbe successo prima o poi. Era solo questione di tempo e di essere pronti al momento giusto. Le donne erano escluse. Fu Bob Daggett naturalmente a stabilire i turni di sorveglianza. Più che giusto in quanto Bob era da parecchi anni il capo del consiglio municipale di Jenny Island. Il giorno dopo la morte del presidente, il pensiero di lui e della first lady che vagavano con occhi spenti per le strade di Washington addentando braccia e gambe umane come altra gente mangiava cosce di pollo a un picnic non venne menzionato. Era un po' troppo dura da digerire, anche se quel bastardo e la sua vecchia moglie bionda erano stati due democratici. per l'occasione Bob Daggett convocò la prima adunanza municipale per soli uomini che si fosse tenuta a Jenny Island fin da prima della guerra civile. Quindi Maddy non partecipò ma seppe tutto quello che c'era da sapere. Fu Dave Immons a raccontarle ogni cosa. «Voi tutti conoscete la situazione» disse Bob. Era sempre stato un tipo piuttosto segaligno ma in quel momento era giallo come un uomo colpito dall'itterizia e la gente sapeva che oltre alla figlia rimasta sull'isola Bob ne aveva altre tre. Tutte sulla terraferma. Ma diavolo quanto a questo tutti loro avevano parenti sulla terraferma. «Sull'isola abbiamo un solo camposanto e finora non è successo nulla. Ma questo non significa che sarà sempre così. In molti altri posti non è successo ancora nulla. Ma sembra che quando si cominci le cose procedano maledettamente alla svelta». Dagli uomini radunati nel seminterrato della chiesa metodista si levò un coro di assensi. erano una settantina con età che andavano dai 18 anni appena compiuti di Johnny Crane fino agli 80 di Frank Duggett, il prozio di Bob che aveva un occhio di vetro e masticava tabacco. Nel seminterrato della chiesa non c'erano sputacchiere e questo Frank lo sapeva benissimo così si era portato da casa un vasetto vuoto di maionese per sputacchiarci il Santa Pace. «Arriva subito al sodo Bobby», disse Frank. «Non devi fare un comizio, il tempo passa». Ci fu un altro coro di assensi e Bob Duggett arrossì. In qualche modo suo zio riusciva sempre a farlo sembrare uno stupido o un incapace e se c'era una cosa al mondo che li odiava più, di sembrare uno stupido o un incapace era sentirsi chiamare Bobby. Cristo santo, lui era un proprietario terriero. Cristo santo, era lui a mantenere quel vecchio impiastro. Ma queste cose non poteva dire ad alta voce. Gli occhi di Frank erano come schegge di granito. «Va bene», disse Secco. «Ecco qua, ci servono dodici uomini per montare di guardia. Fra qualche minuto stabilirò i turni, che saranno di quattro ore». «Io posso restare sveglio molto di più di quattro ore», esclamò Matt Arsenault. E Dave raccontò a Maddy che dopo la riunione Bob aveva detto che nessun mangia rane. Ridotto a campare con un sussido di disoccupazione come Matt Arsenault, avrebbe mai avuto il coraggio di parlargli con quel tono se suo zio non lo avesse chiamato Bobby di fronte a tutti gli uomini dell'isola, come se fosse un ragazzino invece di un uomo che da lì a tre mesi avrebbe compiuto 50 anni. Nota. Frog, oltre a indicare la rana, è un termine spregiativo per indicare una persona francese, o di stretta ascendenza francese, derivato appunto dall'abitudine gallica di mangiare rane. Così si spiega anche il successivo riferimento a Frère Jack. Nota del titolare. «Può anche darsi», disse Bob, «ma abbiamo uomini sufficienti per evitare turni troppo pesanti, così nessuno si addormenterà mentre è di guardia». «Io non mi... non parlavo di te», disse Bob, ma l'espressione nei suoi occhi mentre fissava Matt Arsenault suggeriva che forse aveva pensato proprio a lui. «Questo non è un gioco da ragazzi! Siediti e chiudi il becco!» Matt aprì la bocca per aggiungere qualcosa, poi guardò gli altri uomini, compreso il vecchio Frank Daggett e saggiamente decise di sedersi. «Se avete un fucile, portatelo con voi quando sarà il vostro turno», continuò Bob. Si sentiva un po' meglio con Frère Jack, sistemato. «A meno che non sia un calibro 22. Se non avete un fucile più grosso o se non avete nessun fucile, venite a prenderne uno qui». «Non sapevo che il reverendo Peebles ne tenesse una scorta portata di mano», disse Cal Partridge e vi furono parecchie risate. «Adesso non l'ha ancora, ma l'avrà, perché ogni uomo con più di un fucile di calibro superiore al 22 dovrà portarlo qui», lanciò un'occhiata a Peebles. «Ti sta bene se li teniamo in canonica, Tom?» Peebles annui, torcendosi le mani con aria nervosa. «Col cavolo!» disse Orrin Campbell. «Ho una moglie e due bambini a casa. Dovrei lasciarli indifesi se un branco di cadaveri si facesse vivo in anticipo per il pranzo del ringraziamento mentre io sono di guardia. Se faremo bene il nostro lavoro nel Campo Santo, nessuno correrà a rischi», ribatté impassibile Bob. «Alcuni di voi hanno delle pistole. Non le vogliamo. Scoprite quali donne sanno sparare e quali no e date a loro le pistole. Le faremo restare insieme a gruppi. Potranno giocare a tombola», ridacchiò il vecchio Frank e anche Bob sorrise. «Così andava molto meglio, Cristo Santo!» «Di notte metteremo dei camion tutti intorno, così avremo tutta la luce che ci servirà», guardò Sonny Dodson che gestiva la Island Amoco, l'unica stazione di servizio di Jenny Island. A rifornire auto e camion Sonny non faceva grandi affari. Cristo, sull'isola non c'erano molti posti dove guidare e si potevano risparmiare tre centesimi al litro sulla terraferma. Ma d'estate, con i battelli per la pesca delle ragoste e i motoscafi, restava spesso a secco di nafta. «La benzina la fornisci tu, Sonny? Sarò pagato? Sarai col culo al sicuro. Quando le cose torneranno normali, se mai questo accadrà, penso che verrai rimborsato». Sonny si guardò intorno, vide solo faccia severe e si strinse nelle spalle. Aveva un'espressione un po' imbronciata, ma in realtà sembrava più confuso che altro, come riferì Dave a me di il giorno dopo. «Ni serbatoi mi rimangono circa centosessanta litri, quasi tutto gasolio». «Ci sono cinque generatori sull'isola», disse Bart Dorfman. Quando Bart parlava, tutti stavano ad ascoltare. Essendo l'unico ebreo sull'isola, veniva considerata una creatura tanto mitica quanto spaventosa, un po' come un oracolo che ci azzecchi due volte su tre. «Funzionano tutti a gasolio. Posso sistemare io le luci, se volete». Ci furono mormuri soffocati. Se Bart diceva di poterlo fare, poteva farlo senz'altro. Era un elettricista e maledettamente in gamba, per essere un ebreo, insomma. «Illumineremo quel posto come un fottuto palcoscenico», disse Bob. Andy Kinsolving si alzò. «Ho sentito la televisione che a volte si può sparare una di quelle cose nella testa e fermarla, e che altre volte questo sistema non funziona. Abbiamo le motoseghe e tutto quello che non vorrà restare morto, beh, faremo in modo che non possa arrivare molto lontano da vivo». E dopo aver stabilito i turni, la riunione terminò. Per oggi ci fermiamo qua. Pensavo di aver capito che avrei potuto dividere questa storia in due parti, ma si è rivelata più lunga del solito, e allora è meglio dividerla in un'ulteriore parte. Quindi questa era la seconda parte, la prossima sarà l'ultima. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate del racconto sino a questo momento, come pensate che finirà. È una storia molto particolare, perché il punto di vista è iniziato che la protagonista era lei, poi si sposta un po' verso il punto di vista di Bob. Non ho ancora capito bene dove vuole andare a parare la storia o se c'è un messaggio finale, uno scopo di esistenza di questa storia. Credo che scopriremo tutto a questo punto domani e nel prossimo episodio di no edit. Domani o comunque è la prossima volta che lo pubblicherò. Fatemi sapere qui sotto anche stavolta se vi sta piacendo questo format. Ho visto che il primo ha ricevuto molti consensi, ma forse solo perché era il primo e era la novità. Alla prima richiesta che ho fatto prima del racconto, cioè non volevo dire richiesta alla prima domanda che vi ho fatto prima del racconto, se avreste preferito questo format sotto forma di video o vi piace di più così in audio. Io vi saluto per oggi, una buona giornata o buonanotte se lo stai ascoltando prima di andare a letto. Ciao!